Allora, innanzitutto un sentito, un doveroso ringraziamento al Sindaco per la fiducia, naturalmente, ai colleghi di giunta per l'intenso lavoro di squadra, anche per i risultati che possiamo presentare in quest'Aula e ovviamente un ringraziamento al Consiglio, non soltanto nelle sue commissioni, ma anche per il lavoro d'Aula, per l'impegno fattivo che consente ovviamente ogni giorno, tra punti di vista differenti, ma è un prezioso impegno che ci consente di portare avanti un lavoro che è quello della nostra amministrazione. E lì dove abbiamo sempre detto, anche nelle commissioni, quando noi parliamo di amministrazione, è ovviamente da intendersi un lavoro congiunto tra giunta e consiglio. E forse il primo punto da cui partire, parlando di territorio, riguarda la stretta relazione che, nell'attuazione del programma del Sindaco De Magistris, abbiamo voluto da subito costruire, tra urbanistica, grandi progetti di trasformazione urbana e beni comuni, lì dove i beni comuni, per noi, informano tutte le azioni amministrative e rappresentano la visione di fondo della nostra città. Non dunque una generica attuazione del piano regolatore, cosa che ovviamente va portata avanti, ma vi sono differenti modi per portare avanti un'attuazione del piano regolatore, così come non una pianificazione autoreferenziale o astratta, sganciata dalla città, sganciata dalle dinamiche che l'attraversano, sganciate dai processi di rigenerazione che tutti i giorni attraversano le nostre collettività, attraverso le loro istanze, le loro proiezioni, ma il legare è la città alle dinamiche che l'attraversano, all'attivazione di processi che trovano quale referente primo le collettività, le differenti collettività e le differenti utenze e alla costruzione della città contemporanea, intesa come costruzione di una città che segue il cambiamento, che attiva e segue il cambiamento. Quando noi parliamo di collettività non parliamo soltanto delle collettività che oggi sono le nostre collettività, ma parliamo anche delle collettività che verranno e che premono per entrare all'interno della nostra città. E allora in questo voglio dire da subito che l'urbanistica per noi non è un programma, l'urbanistica è un progetto e l'attuazione del progetto sta esattamente nell'attuazione del programma, quel programma che viene scritto tutti i giorni con le collettività e che trova le collettività quale referente primo anche nella visione di ciò che noi andiamo costantemente a realizzare sul territorio. E un altro punto essenziale che informa l'azione amministrativa è la realizzazione attraverso l'urbanistica dell'interesse pubblico, obiettivo che si persegue non soltanto attraverso questo lavoro con le collettività, ma attraverso un lavoro che guarda e che porta avanti delibere costituzionalmente orientate che pongono esattamente le collettività al centro dell'azione amministrativa, dall'acqua pubblica alla valorizzazione sociale del patrimonio e beni comuni, alle trasformazioni urbane, ai servizi, alle reti, alle attrezzature collettive, ma soprattutto alla città pubblica. Questa amministrazione si riconosce nei punti fondamentali della Costituzione, non solo, ma attraverso le proprie delibere costituzionalmente orientate cura l'attuazione della Costituzione. Ed è con questo spirito che noi infatti abbiamo partecipato alla campagna referendaria, alla battaglia referendaria del 4 dicembre 2016, data che ha segnato per noi un'inversione di tendenza nei rapporti con il Governo e ha consentito proprio sul territorio, proprio in materia di territorio, l'avvio di numerosi tavoli istituzionali che hanno portato ad una piena collaborazione appunto tra istituzioni, fondata sul pieno riconoscimento di piani, programmi, progetti di cui la città si era dotata nel tempo. Piani, programmi, progetti che noi abbiamo, che naturalmente traducono punti di vista e traducono istanze che è una progettualità dell'amministrazione, piani, programmi, progetti che l'amministrazione aveva e che ha combattuto per portare avanti, perché dietro quei progetti vi è ovviamente una visione della nostra città. Penso ad esempio al patto per Napoli, penso agli interventi previsti per la città nell'ambito del PON Metro, penso al Bando Periferie, al Restart Scampia, al programma per le bonifiche di Bagnoli, che prima il Vice Sindaco in apertura ha potuto illustrare, al suo programma di rigenerazione, ma anche a interventi maggiori e minori che oggi riguardano il nostro patrimonio monumentale, alle relazioni con il demanio e a tutto il programma che riguarda il federalismo demaniale. Un insieme di tavoli, un'intensa attività istituzionale che trova il suo riferimento, non soltanto nella programmazione del Comune, che finalmente l'ha potuta incardinare all'interno di corrette relazioni istituzionali e della sua visione e che trova riferimento e incardinamento nei gruppi di monitoraggio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre a diversi organismi dello Stato e che stanno consentendo di portare avanti un'attività progettuale che va appunto dalle reti all'edilizia pubblica e a Bagnoli, a Scampia, attraverso un lavoro progettuale che l'amministrazione aveva prodotto nel tempo e che la cui difesa e la cui autonomia ha consentito la possibilità di essere portata, cioè attraverso grazie a un lavoro di un'autonomia e la cui difesa ha consentito la possibilità di essere incardinata all'interno di programmi istituzionali, oggi nazionali. Allora, ecco io credo che un ulteriore punto che va aggiunto riguarda in questo senso anche l'azione che abbiamo svolto in Italia e appunto con il Governo sui beni comuni, sull'estensione alle forme di gestione dei beni abbandonati e dei luoghi da prendere in cura da parte delle collettività, sulla democrazia partecipativa, anche attraverso audizioni alla Camera, a Montecitorio, differenti audizioni che abbiamo avuto, nelle quali non abbiamo presentato soltanto i nostri progetti, penso a Scampia, penso a Bagnoli, ma abbiamo presentato le nostre delibere sui beni comuni e sui beni sottutilizzati e abbandonati, delibere che oggi, come nel caso delle terre abbandonate o nel caso dei beni sottutilizzati, sono diventate e stanno diventando leggi dello Stato. In questo senso Napoli ha mostrato non soltanto un coraggio dell'azione amministrativa, ha mostrato un punto di vista molto avanzato nella riflessione, nel passaggio da pubblico a collettivo o meglio l'interpretazione di quel pubblico collettivo, a cui noi teniamo moltissimo, che oggi diventa legge dello Stato. Non solo, ma oggi le nostre delibere sono presso la Commissione Europea e siamo stati di recente premiati dalla Commissione nell'ambito, ne citò solo uno, di Urbact, nel corso del 2013. Dalla Commissione Europea è esattamente su quei beni abbandonati e sulle buone pratiche con un primo e con un secondo finanziamento che ci è stato conferito e che stiamo portando avanti. E quei regolamenti sono oggi all'attenzione e allo studio della Commissione Europea perché rappresentano un programma non soltanto di studio ma un punto di vista molto avanzato sulla frontiera della città nella sua inclusività, nel dover comprendere quali siano i punti del cambiamento e come tutto ciò diventa realmente città contemporanea. Allora l'urbanistica. L'urbanistica è un complesso sistema di relazioni che in questo senso abbiamo voluto mettere a sistema, vale a dire tenere insieme le relazioni intervenute a disegnare il nostro territorio e a cambiarlo profondamente, mutandone le previsioni ovviamente del piano regolatore del 2004 ma non lo spirito e la sua ossatura e adeguando la città non soltanto ai mutati bisogni, quanto al cambiamento delle condizioni, quanto anche ai finanziamenti in corso e alla trasformazione della città in città contemporanea. Ecco dal lungomare a UNESCO, a Bagnoli, a Scampia, all'asse costiero, a progetti sui quali mi soffermerò tra poco, ai progetti dello spazio pubblico, alla mutazione profonda che è legata ad alcuni luoghi storici della nostra città, anche le nostre aree centrali storiche, per quanto sembrano una figura immutabile del piano regolatore, sono invece soggette a profonde trasformazioni e profonde cambiamenti. Penso all'area ad esempio di Piazza Municipio o a Piazza Garibaldi o a quanto avverrà e per cui si sta lavorando, anche se i risultati si vedranno tra poco, a Piazza del Plebiscito. Cambiamenti che hanno dato luogo e che stanno dando luogo a un ridisegno del territorio che passa per un sistema di varianti. Le varianti sono ovviamente lo strumento tecnico attraverso cui si accede al cambiamento della città, ma meglio con chiamarle, ecco, più che varianti, la strategicità di un disegno che stiamo portando avanti, che non vuole irrigidire la città, i suoi flussi, i suoi attraversamenti, le sue reti, il suo riempirsi di collettività e di differenti utenze nella sua attrattività e soprattutto nella sua inclusività. Facevo prima il caso di Piazza Municipio perché oggi stanno avvenendo profonde trasformazioni che individuano dei centri della trasformazione urbana e che si compongono in una relazione sia di strumenti finanziatori differenti ma sia di una visione organica che fa riferimento a differenti progetti. Ecco, Piazza Municipio dove si è realizzata ad esempio una stazione nelle fondazioni di un antico castello, qua va ringraziata la soprintendenza anche per lo straordinario coraggio nel portare avanti questo progetto, ma da lì in poi il castello a seguito di questa trasformazione oggi si apre a nuovi usi senza perdere il suo ruolo di monumento e dunque di far parte di una scena fissa della nostra città, ma da lì la connessione con il parco archeologico, con la ritrovata Piazza Soprastante, con nuovi ambienti del castello, fino a sconfinare nelle sale della Regia e arrivare a Via Acton e da lì in poi la relazione con l'apertura al porto, alle aree portuali, al nuovo terminal per i passeggeri e al progetto approvato per quanto ecco per i magazzini generali. Perché metto insieme tutti questi interventi per dimostrare che attraverso differenti tavoli istituzionali e con differenti strumenti finanziatori si va realizzando un'idea di città differente che lega, ecco, differenti parti di città, il castello, la piazza, il palazzo comunale, il parco archeologico, la stazione dei treni, nuovi servizi portuali, l'apertura al porto e i treni metropolitani. Sta cambiando profondamente la nostra città e volevo fare ecco solo un esempio, ma ecco perché il PRG cambia. Non cambia per uno spirito di trasformazione, ma cambia perché oggi accoglie un progetto di cambiamento, così come cambia in tanti altri luoghi che adesso vedremo, dove ad esempio interviene il piano di gestione UNESCO con i cantieri in corso o come nel caso di Scampia, dove l'area di Scampia, se vista la scala del territorio comunale, rappresenta un'area di margine urbano, ma se vista all'interno della sua programmazione della città metropolitana, rappresenta e costituisce una vera centralità un centro di una città continua che da Napoli porta fino a Caserta. Ed è questo il senso di un cambiamento, di una città che continua a reinventarsi e soprattutto che è in grado di comprendere il significato di una città continua che costruisce nuove centralità e mette in relazione centri differenti. E allora l'urbanistica, un sistema integrato, un sistema coordinato di indirizzi e azioni che trasformano l'impalcato strategico che vanno dalla variante alle attrezzature per la zona occidentale, alla variante orientale in corso di predisposizione, alla variante per i frazionamenti nel centro storico di recente approvata proprio qui in Consiglio Comunale, al nuovo piano di rischio aeroportuale su cui mi soffermerò, alle approvazioni delle attrezzature di quartiere ex articolo 56 del piano regolatore, alla pianificazione urbanistica attuativa così come ai programmi di recupero urbano. Un insieme di interventi tra loro coordinati, lì dove, ecco mi soffermo giusto per titoli alcuni punti, la variante per le attrezzature nella zona occidentale è stato di recente approvato il preliminare, a breve, entro i prossimi mesi si concluderà la procedura della VAS e dentro fine anno saremo in grado di portarla anche qui in Consiglio Comunale, ma di fatto vuole stabilire un'opportunità differente per la realizzazione di attrezzature pubbliche anche su suoli privati grazie all'uso pubblico, che è una figura del piano regolatore ma è una figura della nostra programmazione che a Napoli, in Italia, sta avendo un grandissimo significato, cioè la possibilità di calibrare attrezzature pubbliche su suoli privati grazie a finanziamenti privati, lì dove si rispetta l'uso pubblico, è davvero un'innovazione, non solo un'innovazione ma davvero rappresenta un grande passo avanti che consente di realizzare standard di quartiere e attrezzature collettive. La variante orientale è ovviamente un... va ripensata, va ripensato l'intero complesso dell'area orientale anche in relazione a quello che è stato di recente, l'introduzione della zona rossa del Vesuvio e siamo a un preliminare che costituirà un documento di indirizzi su cui l'amministrazione sta lavorando. La variante sui frazionamenti del centro storico non mi soffermo perché l'abbiamo di recente qui approvata in Consiglio Comunale e lavora sul permanere nel centro storico delle realtà sociali che l'hanno abitata nel tempo, dunque la conservazione esattamente di quel capitale sociale che oggi UNESCO ci riconosce tra i beni più preziosi che abitano la nostra città. Il piano rischio aeroportuale abbiamo di recente approvato in giunta e quindi nel prossimo mese verrà qui in Consiglio previo all'esame della Commissione e riguarda il piano di rischio aeroportuale dell'aeroporto Napoli-Capodichino vale a dire la possibilità di contemperare sicurezza e attività edilizia, sicurezza e attività per tutte le aree che ricadono all'interno del cono di volo, nell'area di decollo e di atterraggio dei veifoli senza produrre effetti sulle attività esistenti. Mi soffermo poco sulle approvazioni delle attrezzature di quartiere, ne abbiamo approvate diverse ma solo una voglio citare a modo esempio un po' a emblema di tutte le attrezzature che abbiamo voluto approvare e riguarda Casa Morra a cui siamo fortemente legati perché la possibilità di realizzare una collezione d'arte contemporanea all'interno di un immobile di proprietà privata che si apre alla città e si apre all'uso pubblico e diviene il primo caso di attrezzatura culturale convenzionata ad uso pubblico. È un esperimento unico in Italia che però consente la possibilità di realizzare attraverso l'urbanistica una serie di programmi che guardano alla possibilità di entrare all'interno di quei privati che riconoscono un valore essenziale nelle attività che immagino da quel momento in poi. E poi la pianificazione urbanistica attuativa. Mi soffermo innanzitutto sui numeri e poi per titoli. I piani approvati sono oggi 24, i piani adottati sono 6 e poi abbiamo dei piani in istruttoria. Abbiamo 24 piani urbanistici attuativi approvati nella città di Napoli, il che significa che abbiamo delle aree dove trovare questo, dove calibrare un difficile equilibrio tra fondi pubblici e fondi privati, lì dove sono previste le opere che vengono cedute al pubblico e lì dove il privato investe nella realizzazione di servizi pubblici. Ne cito solo alcuni. L'ambito 13, vale a dire il PUA relativo all'area Kuwait, è entrato nella fase di valutazione ambientale strategica e le bonifiche sono state attivate. Oppure l'ambito 43, l'ambito del PUA Botteghelle, una delle aree principali di cerniera tra il quartiere di Poggio Reale e il centro direzionale. Pochi giorni, nei giorni scorsi abbiamo approvato i primi tre stralci funzionali e esecutivi della manifattura dei tabacchi che prevede un nuovo insediamento di tipo misto, produttivo e residenziale e di riqualificazione degli edifici già esistenti per un introito, anche un investimento, il conseguente introito per il Comune di Napoli pari a circa 33 milioni di euro, di opere, 33 milioni di euro. E infine vanno ricordati alcuni accordi di programma e in questa cornice rientrano anche i programmi di recupero urbano che sono oggi in studio per la loro rimodulazione con la Regione, vale a dire Poggio Reale, Rione, Sant'Alfonso, Ponticelli e Soccavo. Allora, ecco, è questo, in questo senso è l'adeguamento del piano regolatore ai programmi, ai progetti in corso, al sistema di finanziamenti e al cambiamento della città contemporanea. Su tutto ciò la proiezione dei progetti in corso. Penso innanzitutto a Unesco. Penso innanzitutto a Unesco dove oggi, ecco, lo diciamo continuamente, ecco, più volte siamo stati torturati su persi 100 milioni di euro dei finanziamenti Unesco, persi 100 milioni, qualcosa che ci ha, diciamo, ci ha costato anche il dover essere ascoltati magari in altre sedi, ma giustamente se sono questi il tipo di informazioni che si dà alla città. Ma oggi quattro interventi del programma, del grande progetto Centro Storico di Napoli Unesco sono stati completati. Duomo, la passeggiata aerea e il restauro delle cappelle laterali, Cappella Pignatelli, la chiesa di Santa Maria Maggiore, la Cappella Pontaniana ed è conclusa la prima parte dei lavori della chiesa del Monte dei Poveri. Attualmente gli interventi in corso sono invece nove, vale a dire, li voglio citare, il complesso di Girolamini, San Paolo Maggiore, San Pietro Martire, Castel Capuano, Chiesa dei Santi Cosme e Damiano, lotto 1, lotto 2 e lotto 3 relativo alle strade nel cenno della Maglia Cardo de Cumanica e il complesso di Santa Maria della Colonna. I prossimi interventi riguarderanno l'area archeologica del Duomo e la chiesa di San Pietro a Maiella. Cito Unesco perché rappresenta uno dei progetti forse, diciamo, più importanti, più significativi su cui l'amministrazione lavora ma non è soltanto l'amministrazione, va ricordato che Unesco è un protocollo tra sette istituzioni e che tutto trova, è incardinato all'interno dalla Commissione europea, sotto l'alto controllo della Commissione europea e vedere quanto anche la Commissione europea punta sul progetto Unesco è qualcosa che deve solo, ecco, che deve inorgogliere la nostra città. E poi Restart Scampia, le vele. Mi soffermo poco su questo, ne abbiamo parlato anche nelle commissioni consigliari. Il 31 ottobre abbiamo consegnato, abbiamo approvato il progetto esecutivo, l'abbiamo consegnato al gruppo di monitoraggio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A dicembre, quindi pochi giorni fa, abbiamo avuto il via libera dal Governo per la possibilità di procedere attraverso lotti singoli, parliamo di un intervento di 27 milioni di euro, di cui 18 a valere sui fondi del bando periferie del Governo e per 9 milioni a valere sui bandi dei fondi PON e poi prossimamente, adesso partiremo con la pubblicazione della gara per l'abbattimento della prima vela, vale a dire la vela verde e contestualmente pubblicheremo il bando per la gara internazionale di progettazione per la trasformazione dell'intero lotto M, non solo, delle aree di accesso, dell'edificio della stazione metropolitana, eccetera, eccetera. A completamento di questo va detto anche del lavoro che si sta svolgendo per la Facoltà di Medicina, oggi Dipartimento di Scienze Infermeristiche, anche qui purtroppo scontiamo alcuni rallentamenti nel finanziamento da parte della Regione, ma siamo convinti che a breve i problemi, i nodi che sono stati rilevati e su cui stiamo lavorando verranno risolti. Bagnoli costituisce uno dei punti più avanzati sul terreno della difesa dei diritti del territorio, delle prerogative della pianificazione, del rispetto dei principi costituzionali, dell'affermazione del principio chi inquina paga. Dopo la costituzione del tavolo interistituzionale che ha portato alla sottoscrizione dell'accordo prima a luglio e poi ad agosto 2017 di un programma, di un progetto fortemente voluto dall'amministrazione, oggi l'amministrazione collabora attivamente alla definizione del programma non solo delle bonifiche ma anche del programma di rigenerazione urbana, del dimensionamento del piano, delle infrastrutture, delle reti e del reperimento dei fondi per l'attuazione appunto del programma di rigenerazione. Spazi per la ricerca, rimozione integrale della colmata, un parco pubblico che cresce, una dotazione di servizi, di standard, di attrezzature collettive, appunto spiaggia pubblica, nuove residenze, accessibilità, valorizzazione del paesaggio marino, valorizzazione del paesaggio costiero, insomma qualcosa che era scritto nella storia della città di Napoli, nella sua immaginazione, nella storia della sua progettazione che ha trovato centralità all'interno di un programma che vede insieme il governo, la regione, il comune di Napoli che è stato sottoscritto in un tavolo interistituzionale che oggi sta diventando una realtà, vale a dire a gennaio, prima l'ha precisato anche il vice sindaco, partiranno le gare, a maggio vi saranno la definizione appunto i risultati di tale gare, tra luglio e settembre partiranno le bonifiche, finalmente le bonifiche, qualcosa che abbiamo chiesto per tanti anni e contestualmente e ricordando appunto che il SIN è un sito di interesse nazionale e contestualmente partirà il dimensionamento di tutta quell'attività di progettazione e della rigenerazione che noi abbiamo da sempre chiesto e che oggi sta diventando una realtà. E poi il progetto di riqualificazione del lungomare, vale a dire il tratto, quando parliamo lungomare parliamo non soltanto del nostro waterfront ma della nostra linea di costa, di una delle aree più importanti dal punto di vista della trasformazione urbana, un'intuizione del sindaco dei magistris sin dal suo primo insediamento e oggi che ha ottenuto il finanziamento necessario per la sua realizzazione, il POC Metro, siamo pronti per redigere due bandi, il primo che riguarda tutte le attività legate alla viabilità, il secondo che sarà imperniato esattamente su quel progetto definitivo che è stato approvato insieme con la soprintendenza. Ed è l'Andia ed ex Cinodromo, dopo una lunga gestazione l'amministrazione ha curato non solo il condono dell'area storica dell'Andia e del Cinodromo, abbiamo ottenuto finalmente anche la rimozione di tutti i volumi abusivi, sia quelli oggetto di sentenza, sia quelli ai sensi del piano dei vinco e della soprintendenza, sia ai sensi delle valutazioni dei nostri uffici e dunque che non rientravano all'interno del nostro piano regolatore, oggi è l'area e integralmente i lavori stanno andando avanti e a breve presenteremo il progetto che riguarda appunto non soltanto l'Edelandia ma anche l'ex Cinodromo è stato finalmente predisposto e soprattutto il nuovo progetto consentirà non solo la riapertura del parco divertimenti alla città ma so quanto anche insieme con la salvaguardia dei livelli occupazionali. E poi l'area ex Nato, scusatemi se io devo prendere in esame i differenti punti che costituiscono oggi non soltanto una riserva fondamentale ma una riserva alla quale noi abbiamo lavorato e che oggi stanno diventando realmente centri della trasformazione. L'area ex Nato nei mesi scorsi si è costituito finalmente il regolare consiglio di amministrazione fortemente voluto da questa amministrazione, il nuovo CDA di recente non solo ha preso atto del lavoro portato avanti dall'amministrazione ma è stato approvato dal tavolo costituito dall'amministrazione, dalla fondazione, dalla municipalità insieme con la collettività che ha preso parte attraverso assemblee partecipate alla redazione del piano urbanistico. Nei prossimi giorni saranno completati i piani di settore, saranno sottoscritte le convenzioni e a valle di tutto ciò naturalmente l'area sarà riaperta alla città e grande ruolo possiamo dire avrà l'amministrazione comunale in questo. Sul patto per Napoli si è soffermato l'assessore calabrese, ricordo che nel patto per Napoli è incardinata la seconda parte di Scampia, il parco archeologico di piazza municipio, gli interventi di edilizia pubblica, gli interventi che riguardano l'edilizia istituzionale pubblica, i nuovi interventi che riguardano l'edilizia private e dunque gli incentivi, oltre alle reti metropolitane e gli interventi che stiamo portando avanti anche all'interno dell'area centrale storica. Il programma europeo partecipato, Urbac 3, voglio ricordare che si compone e si implementa di tre parti, siamo partiti con il primo progetto che è il Second Chance, successivamente la Commissione europea ci ha finanziato anche Urb Inclusion e ancora Lost and Found. In particolare il progetto Second Chance vede il Comune di Napoli in questo momento città capofila di un gruppo di altre dieci città europee e ha l'obiettivo di confrontarsi sul tema della riqualificazione e riuso dei grandi contenitori e dei grandi immobili abbandonati. Abbiamo tantissime associazioni che stanno lavorando a un'ipotesi di sviluppo e di rivitalizzazione che riguarda l'ex ospedale militare, sottoporremo l'esito di tutto questo ad aprile prossimo, non soltanto al Consiglio quanto anche alla Regione per la sua approvazione. Ancora, non cito, lo ha fatto prima il collega Borriello, gli interventi previsti nell'ambito del federalismo demaniale. Dunque io in questo voglio ricordare quanto, e termino questa prima parte anche con gli interventi di edilizia privata, vale a dire dal piano regolatore all'edilizia privata, ad una stretta relazione che tiene insieme tutta l'attività edilizia, ma lì dove va pensato come un unico movimento che parte dalla programmazione, alla progettazione, all'attuazione e finché ai cantieri veri e propri, in questo vi è stato uno sforzo dell'urbanistica di arrivare sino ai cantieri. L'attività dell'edilizia privata riguarda dei permessi a costruire, alla manutenzione ordinare, alla manutenzione straordinaria, agli interventi di restauro, a tutte le attività legate alla ristrutturazione edilizia e alla ristrutturazione urbanistica, ma una frontiera nuova che oggi riguarda l'edilizia privata è esattamente quanto è stato previsto in materia di semplificazione che è stato introdotto dal decreto legislativo del 30 giugno 2016, che ci vedrà accorciare ancora alcuni tempi nell'attuazione degli interventi, soprattutto nell'attività di programmazione. Voglio dire soltanto che l'attività svolta dagli uffici a supporto delle iniziative dei privati ha consentito di ricevere, esaminare e approvare nel 2017 più di 20.000 pratiche, 20.000 pratiche, per un incasso complessivo di oltre 6 milioni, circa 7 milioni di euro, ovviamente più di quanto avevamo previsto noi a inizio anno. Dunque, ecco, l'adeguamento del piano regolatore ai programmi e progetti in corso a sistema di finanziamenti e cambiamenti della città contemporanea. Tutto ciò, su tutto ciò, la proiezione dei programmi e dei progetti in corso e poi dei beni comuni, ho parlato all'inizio. Però vorrei dire che beni comuni e democrazia partecipata sono il sottostrato di fondo della nostra azione amministrativa, concernono il territorio e soprattutto segnano un salto di scala alla rigenerazione urbana. E forse questo è il punto più importante che ci viene riconosciuto, vale a dire l'azione della rigenerazione urbana che viene effettuata attraverso di salto di scala con i beni comuni. A nostro avviso la nuova frontiera del fare città è in questo del fare comunità e dunque diventa la frontiera della rigenerazione urbana. Dall'acqua pubblica alla valorizzazione del patrimonio, alla gestione partecipata dei beni comuni, alla difesa dei diritti essenziali della persona, alla tutela del territorio. Ecco, la città di Napoli porta avanti, con le proprie delibere costituzionalmente orientate e qua vorrei dirlo, non un sistema, ecco, porta avanti un sistema di valorizzazione dei nostri beni e soprattutto delle nostre collettività, non un sistema di assegnazioni, come comunemente si dice. Come comunemente si è voluto dire, non un sistema di assegnazioni, quanto la restituzione alla collettività di ciò che le appartiene costituzionalmente. Non, ecco, noi non assegniamo, noi apriamo alle collettività. E questo è un passaggio fondamentale che viene studiato oggi in tutta Europa e alcune cose ancora ci meravigliano in questo senso. È un passaggio che viene studiato in tutta Europa che segna il passaggio dal pubblico al collettivo alla rigenerazione urbana, o almeno la dimensione collettiva del pubblico. L'ultimo atto in ordine di tempo è l'approvazione della delibera dell'agosto scorso per l'uso temporaneo di attrezzature pubbliche dismesse senza modifica della destinazione urbanistica finalizzata alla valorizzazione del patrimonio pubblico non utilizzato o in stato di abbandono. Sono qui previsti indirizzi e azioni che riguardano innanzitutto la redditività civica, il patrimonio delle chiese chiuse, la valorizzazione sociale del patrimonio, l'accoglienza, la dotazione di un riparo per i settori fragili, la costruzione di comunità urbane, la costruzione di nuove economie per i giovani, l'accoglienza e rotazione a tutti i settori fragili, gli usi temporanei. Cosa poi significa la difesa dei beni comuni e delle istanze della collettività e scritto nei progetti che stiamo portando avanti in modo partecipato, come dicevamo prima, con Bagnoli, con Scampia, con Lex Arianato, come con molte aree in tanti altri progetti che portiamo avanti, dove le delibere noi le scriviamo insieme. Noi non è che ascoltiamo e ci riserviamo nelle nostre stanze di cambiare totalmente tutto. Ovviamente la scelta nella propria autonomia è sempre dell'amministrazione, ma questa avviene in un confronto continuo dove ovviamente ci sono incontri, scontri, dove ovviamente si valutano tecniche e modi di pensare anche molto radicalmente differenti, ma dove si arriva a una sintesi insieme con le collettività. E questo non riguarda soltanto i grandi o i piccoli progetti di trasformazione, ma riguarda ad esempio anche tutto quel capitolo che tocca la cura, la cura della nostra città. Faccio solo un esempio. Adotta una strada. Da agosto 2015 ad oggi sono state presentate 36 pratiche ai sensi del regolamento adotta una strada e sono state sottoscritte numerose convenzioni. Non cito soltanto quelle che hanno avuto maggiore risalto negli ultimi tempi, vale a dire il caso della riqualificazione delle scale di collegamento tra Prazzetta Cariati e via Santa Caterina da Siena oppure l'area circostante Cappella San Severo. Così come molto importanti sono stati alcuni punti lì dove i modi attraverso cui adotta una strada ha consentito la realizzazione di un'aggregazione nuova anche a servizio di un'utenza differente in contesti caratterizzati anche da complessi contesti sociali. È il caso per esempio dell'otto o nel quartiere di Ponticelli, io lo chiamo così. Ora, e poi ci sono tutti gli interventi per la creatività urbana voglio solo ricordare gli interventi che noi abbiamo portato avanti ad esempio nell'area della sanità attraverso Bosoletti, attraverso Tono Cruz o anche ad altri progettisti o altri progetti che hanno potuto lavorare nelle nostre strade, nelle nostre piazze così come ad esempio Gonzales, Manu, Matu e tanti altri artisti. Prossimamente ospiteremo un bellissimo lavoro che è quello di Okuda. Ora, non mi soffermo su quelli che sono anche tutti gli altri interventi che attraverso l'attività UNESCO noi possiamo portare avanti perché il mecenatismo, così come l'Art Bonus così come i progetti di sponsorizzazione così come tutti gli altri modi attraverso cui vengono incardinati non soltanto fondi privati ma la volontà di tante persone di prendersi cura della propria città e diventare autori di un progetto che noi crediamo sia una delle cose più belle essere autori di un progetto che riguarda la propria città e concludo che in questo senso dalla pianificazione strategica a quella attuativa ai grandi e piccoli progetti di trasformazione urbana ai beni comuni che ne formano un'armatura urbana segnando il salto di scala della rigenerazione urbana alla costruzione delle nuove collettività alle forme di accoglienza entro cui le collettività si ritrovano e si riconoscono appunto autrici di un progetto Napoli è oggi tra mille problemi che attanagliano tutte le città nessuna esclusa Napoli è però una città contemporanea è una città contemporanea che segna il passo in termini di democrazia di partecipazione alle trasformazioni in termini di identità collettiva in termini di gestione diretta da parte delle collettività dei propri beni in termini di visione del futuro grazie a questo ad una riconnessione molto forte che è un movimento collettivo una riconnessione molto forte che la città sta facendo con il proprio patrimonio costruito ma non solo ma anche con la propria memoria collettiva e con il senso e il significato più profondo del cambiamento della città Napoli non punta più sull'individualità urbana o su una pianificazione astratta ma punta su una governance e su una riappropriazione della sua memoria collettiva che è governance di modelli di tecniche ma soprattutto di costruzione di modi differenti di pensare i luoghi di pensare le collettività e di fare comunità che hanno origine qui che si ritrovano nella nostra cultura mediterranea e che stanno davvero attraversando l'Europa e allora io ringrazio in questo nuovamente il sindaco ringrazio i colleghi di giunta ringrazio il consiglio nelle sue differenti articolazioni ringrazio tutta la macchina amministrativa che è ovviamente una macchina potente nella sua formalizzazione ma come tutte le macchine fatte di uomini fatte di donne fatte di persone fatte di emozioni e una macchina fragile e queste fragilità molto spesso si evidenziano e tocca a noi tenerle insieme tocca a noi dargli un senso tocca a noi dargli un progetto e ringrazio tutte queste persone alla cui dedizione va tutto il nostro appunto più sentito ringraziamento grazie 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 grazie